Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight, siamo nel numero 31 di Sword Online Alcizzation, Lycoris, e signori continuiamo con il sesto capitolo della storia. Come avevo anticipato nello scorso video, abbiamo un bel po' di ore da smaltire, che ovviamente ho cercato di comprimervi in molti meno minuti, e appunto questo è il secondo video di tre video in cui vi riassumerò tutto il sesto capitolo della storia, che di fatto è la Central Cathedral, versione infestata, poi per arrivare ad Administrator Resuscitata. E affrontiamo adesso al piano 99, Chudelkin, versione pupazzo di fuoco. No, tranquilli, non è l'episodio indietro, quello in cui l'abbiamo affrontato la prima volta. Questa è una versione resuscitata di Chudelkin, perché da questo videogioco abbiamo capito che se i nemici una volta non sono bastati, li facciamo resuscitare in modo che tornino una seconda volta. Davvero un bel cambio di programma rispetto ad altri videogiochi che preferivano magari dire, ok, ce la fai a battere questo nemico, allora faccio che cambiartelo e te ne metto un altro. Qui invece no, qui resuscitano e ti continuano a perseguitare fino alla morte. Ovviamente noi questo cattivone di Chudelkin lo facciamo fuori, e poi un altro rappresentante del Senato, vabbè, ho messo tutti i rappresentanti del Senato, ce ne sono due adesso. Uno vecchio e uno nuovo, anche se non saprei dire qual è quello vecchio e quello nuovo tra i due. Vabbè, in ogni caso li facciamo fuori entrambi e così risolviamo il problema. Per quanto riguarda lo scontro con Chudelkin, è abbastanza simile alla prima volta che lo abbiamo affrontato, quindi ha gli stessi attacchi, stesse cosette di fuoco che vi danno fastidio e che vi possono bloccare le skill. Più che altro è quello il problema. Poi i suoi danni li fa comunque, quindi dovete stare anche attenti un po' alla vostra barra della vita. Però vi assicuro che non è per niente complesso. Come vedete qui, giusto le fasi finali dello scontro, lo si cappotta e poi arte finale e tanti saluti. Quello sempre così va a finire, ogni scontro e ogni duello. Bastanza monotono su questo punto di vista, però almeno sappiamo qual è la carta vincente per poter vincere qualunque duello e qualunque scontro. Bene, tanti saluti Chudelkin. Ora però passiamo ad Ersirian, perché mentre i nostri eroi appunto hanno affrontato il pupazzo di fuoco, lui si è andato con la bella porticina al centesimo piano, dove c'è l'Administrator, una sorta di incubatrice. Se vi ricordate l'avevamo già visto con il dialogo di Ersirian e Medina, quando Ersirian ha cercato di convincere Medina a passare dalla sua parte. E letteralmente Medina si è fatta convincere con niente, con lui che ha praticamente parlato con la vocina di Administrator. Chissà che grande gioco di prestigio ho dovuto fare per ingannare Medina, guarda. Io non ho parole. La differenza rispetto alla versione precedente di Administrator, quindi quella bambola, è che questa in realtà è con il suo vero corpo, perché appunto Ersirian ha preso questo corpo di Administrator e l'ha praticamente curata dentro questa sorta di incubatrice con il potere sacro, e adesso deve semplicemente ripristinare i ricordi che aveva Administrator e la sua coscienza. E questo forse non è un lavoro tanto semplice, bisogna un attimo impegnarsi. Però come abbiamo visto nello scorso video, Administrator ha fatto un trucchetto non da poco, perché appunto ha collegato la sua coscienza al main visualizer, quindi al nucleo centrale del videogioco. In questo modo è molto più facile riuscire ad andare a recuperare tutti i suoi ricordi e la sua coscienza. Come potete vedere qui poi con tutti questi rami si nutre proprio di potere sacro, vedete che li assorbe proprio. E poi dopo la cosa anche un po' divertente, è che noi facciamo tutti questi discorsi sul main visualizer, tanti casini, lei semplicemente si mette là e dà un update, dice, eh, faccio l'update, dammi un secondo, scende la luce con i dati praticamente, i file, le cartelle che vanno tutte nel suo cervello praticamente, e boh, ritorna come era una volta, subito subito. In generale abbiamo risolto, Administrator è tornata, più potente di prima. In ogni caso dobbiamo vedere adesso come affrontarla, perché abbiamo già visto la differenza con la versione bambola, che si era tipo intrappolata poi nei rami e l'abbiamo devastata di botte. Adesso vediamo quest'altra Administrator, che sarà più temibile. Questa volta è la vera Administrator, quella cattiva, fino al principio. L'unica differenza è vedere se c'è qualcosa di diverso rispetto alla prima volta che l'abbiamo affrontata con Kirito, perché abbiamo già visto che Kirito l'ha massacrata. Ora vediamo il comeback, il ritorno, che fine fa. Comunque arrivano finalmente i nostri eroi al centesimo piano, e direi anche ora, quanto ci avete messo a scalare questo maledetto piano? E si trovano di nuovo di faccia ad Administrator e iniziano un pochino a discutere, no? Un pochino di discorsi di vecchia data, no? Eh, ciao, ma tu sei ancora il ragazzi regolare, ma sempre qui che mi vuoi uccidere? Cioè, calmino, ho capito che mi vuoi così tanto bene che come mi vedi subito, eh, vuoi uccidermi. Però, un attimo, povera Administrator, davvero, uno non può neanche fare il cattivo dentro un videogioco tranquillamente. Dice, no, arriva il buono di turno e mi deve fermare ogni volta. Vabbè. Però la differenza rispetto a prima è che lei avrà un piano in mente, almeno quello spero, e poi adesso c'è anche Ersirian che la vuole difendere. Come potete vedere la chiama madre, però dobbiamo ancora capire qual è la sua vera relazione con l'Administrator e il fatto per cui non sappiamo niente di Ersirian. Cioè, letteralmente, fino a questo punto, cioè fino alla fine della storia, questo ha continuato ad agire indisturbato, ma non sono riusciti a capire chi era o da dove veniva, come è spuntato fuori questo rappresentante del Senato. Sapevano che c'era già Chudelkin, ora questo qui di punto in bianco arriva e si spaccia pure lui per rappresentante del Senato. Cioè, una carica che teoricamente dovrebbe avere una sola persona, e poi, a lei, ne è arrivato un altro. Ovviamente i nostri eroi lo vogliono far fuori, perché ha causato un bel po' di problemi tra Clamp e tutto il resto. Poi vi ricordate anche nel quinto capitolo che aveva praticamente congelato tutti i cavalieri integratori? Insomma, ne ha combinato un bel po' lui con il Deep Freeze. Direi che si doveva dare una calmina. Però, in generale, la cosa un po' preoccupante di Ersirian è che sa usare bene i comandi del gioco, quindi tutte le arti sacre, e poi si difende con questo scudo incarnato, anche se, vi posso dire la verità, mi aspettavo un nemico molto molto più temibile, anche perché è vero che mi può dar fastidio con le arti sacre, ma di fatto sta sempre sulla difensiva per la cosa dello scudo. Ed ecco quindi qui lo scontro con Ersirian, che vi posso assicurare che non dura neanche troppo. È resistente, quindi ci vuole un po'. Non è che dovete stare lì due secondi e muore. Però, di fatto, come vi dicevo prima, rimane sempre sulla difensiva. Vi continua a lanciare queste arti sacre, il vento, il fuoco, l'acqua, insomma, un po' di tutto, un po' come gli gira. Però non ha veri e propri attacchi, tipo Swordskill, che vi possono danneggiare. Quindi, finché non schivate, insomma, tutti gli attacchi, tutte queste arti sacre, vabbè, il discorso non dovrebbe essere problematico. Poi, come vedete, io qua lo cappotto, gli lancio l'arte finale, gli lancio gli Starbust Stream a ripetizione. Molto spesso, come dicevo anche nello scorso video, bisogna anche un attimo vedere come calibrare questo Starbust Stream, perché, avendo la superarmatura, allora potete anche decidere di andare proprio in faccia a lui, buttargli lo Starbust Stream e fregarvene tutto quello che vi tira addosso. Tanto siete infermabili. Potete gestirvela così. Potete gestirvela sia nell'incassare i colpi, sia nel decidere di schivarli tutti e poi colpirlo quando meno se non aspetta. Però, comunque, se lo colpite consecutivamente, la barra del pericolo aumenta sempre di più ed è molto più facile che vada in spezzamento. Anche se con questa cosa dello scudo incarnato non è ben chiara, perché non è una cosa che la barra del pericolo sale e allora poi lui si cappotta, no? A un certo punto gli si rompe lo scudo e allora poi potete attaccarlo e tirarlo giù. Mi sembra che si rompa molto più facilmente con le combo alleato, beh, ma come anche normale, perché per fare danno le combo alleato ovviamente fanno di più. Quindi immagino che se voi siete in un gruppo da quattro praticamente non ha neanche un minimo di speranza. Gli buttate una combo alleato e penso esploda. Io invece vado sempre con la mia bella Asuna e poi, come al solito, i cappottamenti e le arti finali per concludere lo scontro. Qua ovviamente fa vedere, come al solito, Medina che combatte con Ersirian perché giustamente, anche se non ha fatto niente, non ha partecipato letteralmente allo scontro, è lei l'eroina che deve affrontare il cattivo in questione. Anche se Ersirian un pochino la sbeffeggia perché dice cosa pensi di fare tu? Ovviamente non sei neanche a un livello di cavaliere integratore. Poi hai anche il problema del tabù, quindi non puoi violare la legge, non è che puoi uccidermi. E quindi ci sono un bel po' di casini perché diversamente da Alice e Deugeo che avevano spezzato appunto il marchio e loro potevano infrangere qualunque regola, lei invece no. Lei è vincolata ancora all'indice di tabù e poi deve ovviamente capire come far fuori Ersirian. Ersirian poi, come potete vedere, è anche abbastanza abile con sto bastone. Cioè, se lo destreggia bene. Infatti vedete che qui Medina cerca di colpirlo con la katana in tutti i modi ma ovviamente fallisce. Insomma, Medina, ci vuole un vero eroe. Qua ci vuole Chirito per affrontare Ersirian. Non puoi rimanere lì e pensare di gestirti tu il finale. Ci vuole il Chirito, il super Chirito per fermare tutta questa situazione. Poi anche perché Ersirian ti devi levare di mezzo. Noi siamo arrivati qui per Administrator. Tu sei solo tra le balle. Però la cosa che possiamo vedere in questo episodio è il passato di Ersirian. Perché appunto, come vi dicevo prima, è un po' particolare questa cosa perché abbiamo avuto questo cattivo ma che fino in fondo non abbiamo neanche provato a vedere la sua storia, il suo passato in generale. Anche perché l'ha tenuto bello nascosto, devo dire. Non c'era modo di saperlo in altri modi. E adesso però lui rivela tutto. Ersirian quindi inizia a raccontare e dice che quando era un bambino aveva perso i genitori praticamente da piccolo. E ovviamente era rimasto solo lui, bambino piccolo, quindi non sapeva neanche parlare. E semplicemente continuava a vivere facendo quello che poteva. Quindi ammazzando magari anche qualche bestia per nutrirsi. Insomma, ha vissuto letteralmente lo stato brado come animale stile Tarzan. Cioè praticamente il Tarzan del nuovo millennio. Beh, in Underworld poi. E è stato poi trovato da Administrator che ha deciso quindi di accudirlo come fosse suo figlio. Ha detto, vabbè, lo prendo sotto di me e magari, non lo so, lo cresco. Ed è per questo forse che Ersirian continua a chiamarla madre. Perché appunto è stato cresciuto da Administrator. Il suo compito nella cattedrale era molto semplice. Ha studiato le arti sacre e torturava le persone. Era letteralmente il boia. Colui che torturava e uccideva le persone su cui Administrator faceva gli esperimenti. Quindi Administrator prendeva tutte queste persone su cui doveva appunto fare diversi esperimenti per mille e mila motivi. E lui era quello che controllava tutti questi prigionieri. E come un po' gli girava, li torturava, li uccideva. Insomma, aveva abbastanza potere su questi prigionieri. Chi era anche prigioniero in questa central cathedral erano ovviamente gli Ortinanos. Loro sono sempre stati tacciati come difettosi perché avevano fallito una missione che gli aveva dato Administrator. In realtà non era proprio così. In realtà loro erano presi da Administrator, tenuti prigionieri e venivano fatti degli esperimenti su di loro come fossero delle cavie. E ovviamente questo permetteva a Eder Sirian, che era appunto colui che controllava i prigionieri, di fare un po' come gli pareva. Quindi andava lì, torturava le persone, poi li guariva, così tornavano come nuovi. In un ciclo quasi di sofferenza continua. Perché continuava a ferire le persone e poi le curava. Feriva e curava. Però, piano piano, ha iniziato a vedere che qualcosa stava cambiando. Anche perché gli anni passano, anche la vita di Administrator cambia. Anche perché poi, campata a 300 anni, questa signorina. Insomma, non è proprio giovane, giovane come fa a credere. E cos'è successo? Che lei ovviamente aveva il problema della memoria, della Flact Light. Se vi ricordate, nell'anime, lei per ovviare a questo problema, ha cercato di riversare i suoi ricordi dentro Cardinal, appunto, dentro questa ragazzina nuova. E poi dopo, appunto, aveva come una sorta di backup, un contenitore dei suoi ricordi. In realtà, non è andata a buon fine, perché, se avete visto l'anime, vi ricordate che Cardinal poi è diventata nemica di Administrator e ha continuato ad essere l'enemica per sempre, praticamente, fino a questo punto. Invece, Ersirian ha notato un altro cambiamento che, ovviamente, non poteva farci niente e che, appunto, stava iniziando anche a perdere i ricordi di Administrator e non si ricordava neanche più il suo nome. Quindi, cosa ha pensato bene di fare? ha detto adesso io infango gli Ortinanos perché di loro si ricorda invece di me no. E quindi, cosa ha pensato bene di fare? È andata da l'ultima cavia di tutti gli Ortinanos che era il quinto capofamiglia e ha deciso, ovviamente, di fare qualcosa di irreparabile. L'ha violentata e ha, ovviamente, contaminato la purezza di questa stirpe di persone, appunto, di nobili che sono gli Ortinanos. E per questo Ersirian si può considerare quasi un lontano antenato di Medina. Quindi, in realtà, i suoi antenati, tutto ciò per cui lei ha sempre lottato il nome della casata Ortinanos, in realtà, è stato macchiato da Ersirian che ne è entrato anche a far parte. Però, non si riesce a dar pace Ersirian perché, nonostante ha macchiato comunque la stirpe degli Ortinanos, il problema rimane. Non è che Administrator dopo ti ricorderà. In realtà, ancora adesso non si ricorda di te. Infatti, come descrive anche Administrator, in realtà, lei non ha specificatamente chiesto a Ersirian di rianimarla. Ha mandato una sorta di comando in cui ha dato le sue ultime volontà a tutti quelli che erano congelati, ibernati col Deep Freeze all'interno della Central Cathedral. E, ovviamente, uno di quelli che ha risposto è stato Ersirian. Quindi, Medina è abbastanza scioccata da questa notizia perché capisce che è stato fatto qualcosa di veramente imperdonabile alla sua casata, alla stirpe dei regli Ortinanos e non si può più recuperare. Ad aggiungere poi altra benzina sul fuoco arriva anche Administrator che fa vedere a Medina tutti i suoi esperimenti sugli Ortinanos che fino hanno fatto. Ovvero, le ha trasformate in tante belle gemme rosse. Dice, guarda, tutti i tuoi antenati, eccoli qua, guarda come sono carini, in belle gemme, che poi intendeva utilizzare per altri suoi esperimenti per diventare ancora più forte. Quindi, Medina capisce che tutto quello che è successo qui a Cathedral non è stata certo una bella storia, ma è andata molto male per gli Ortinanos. E, in realtà, è andata male anche per Ersirian perché dopo tutto quello che ha fatto in realtà ancora non viene ricordato da Administrator. È un bambino qualunque possiamo dire così, visto che la considera sua madre, che ha risposto alla sua chiamata, ma che in fin dei conti poteva essere chiunque. E Ersirian però non si dà pace, ovviamente vuole continuare a sconfiggere gli Ortinanos perché ha proprio questo odio profondo verso di loro. Non può davvero accettare il fatto che Administrator avesse l'oro in testa al posto suo e dice io vi annienterò tutti così poi sarò solo io tutto per mia madre. È molto particolare come affetto devo dire. Un affetto un po' distruttivo quello di Ersirian. E Medina ovviamente è abbastanza in trauma perché tutte queste notizie non fanno di certo bene anche sapere tutta la sofferenza che hanno provato i suoi antenati. Però è anche un motivo per riscattarsi forse un modo per andare avanti riuscirò a riscattare quindi tutti questi anni di sofferenza che hanno dovuto patire i miei antenati sconfiggerò i cattivi una volta per tutte e adios. Ed era quello che in realtà anche io avevo in un certo senso cercato di dire a Medina anche se ovviamente non è che glielo potevo dire io è che al posto di provare a convincere le stesse persone cattive che ti hanno dato la difettosa magari puoi farle fuori tipo in questo caso Administrator che è stato la causa di tutto e riscattare il tuo nome riuscendo quindi a eliminare le persone che ti hanno tacciato di essere difettosa. Certo non può andare in giro eliminare tutto il mondo degli umani però Administrator che è stata la causa di tutto beh si può fare direi si può fare comunque Medina è pronta per questo nuovo scontro e dice va bene io voglio andare oltre e voglio affrontarti per distruggerti e poi anche il problema dell'indice dei tabù perché appunto deve affrontare il Sirian e anche Administrator quindi deve andare quasi contro la volontà stessa del gioco e ovviamente questo codice l'871 che ha nell'occhio non glielo permette non glielo lascia fare comunque qui Administrator che se la gungola con le sue belle pietre anche se in realtà non ha ancora ben capito il Sirian che lui è stato letteralmente escluso dalla scena anche da subito come è tornato Administrator ha detto vabbè senti va mettiti da parte meglio che lasci perdere poi qui vedete Medina che è vero vuole combattere ma non sa cosa fare è letteralmente in un vicolo cieco vorrebbe riscattare il nome dei suoi antenati però poi scopre che i suoi antenati in realtà hanno avuto delle sofferenze atroci e anche quando vuole vendicarli sa che non può farlo per l'indice di tabù però per questo ci sono appunto Kirito e tutti gli altri perché loro appunto non hanno il marchio nell'occhio né Eugeo né Alice che sono riusciti quindi a toglierlo e poi Kirito che viene ovviamente dal mondo esterno non ha il codice a barre nell'occhio bene quindi signore Ersirian hai i tempi contati ora toccherà a te dopo il primo rappresentante del senato ora è arrivato il suo momento anche se lui sta lì continuando a delirare su le sue manie di grandezza e sul suo amore per Administrator sono tutti un po' affascinati quasi da Administrator quasi che perdono la testa se vi ricordavate anche Chudelkin era proprio completamente fuori di testa per il corpo di Administrator e adesso pure lui non scherza vuole ovviamente avere sua madre tutta per sé la cosa poi anche divertente è che lui quasi ha voluto contaminare gli Ortinanos e poi ne è diventato anche parte perché è diventato praticamente un parente per essere ricordato da Administrator dice adesso divento anche io un Ortinanos a questo punto se hai così tanta memoria per loro se li reputi davvero così tanto allora anche io voglio diventare un Ortinanos tutta questa volontà poi alla fine di voler contaminare gli Ortinanos da parte di Ersirian era quasi per entrarne a far parte per riuscire ad essere ricordato da sua madre a questo punto perché se non puoi batterli unisciti a loro possiamo dire anche così però qualcosa non è andato come sperava infatti addirittura adesso che Administrator poi prende tutte queste gemme degli antenati di Ortinanos in mano dice io ricordo tutto ricordo tutti gli esperimenti che abbiamo fatto su gli Ortinanos però in realtà io di te non mi ricordo assolutamente nulla dice tu mi chiami madre però io in realtà non ho la minima idea di chi tu sia come ho detto prima Administrator ha inviato questo codice di aiuto questa sorta di messaggio a tutti quelli che erano già nella cathedral sotto stato di Deep Freeze e lui era uno di quelli che appunto ha ricevuto il messaggio però ha avuto l'illusione che Administrator ha direttamente chiamato lui per farla risorgere quando in realtà non è stato così lei era letteralmente cinica ha detto io la prima persona che mi resuscita mi va benissimo non è che mi interessa tanto chi sia basta che mi resuscitano in qualche modo e sono più che contenta e adesso vuole utilizzare poi queste gemme per i suoi scopi quindi ha questo potere degli Ortinanos in mano e lo può sfruttare anche se Ersirian è letteralmente sotto shock pure lui perché non si aspettava che Administrator letteralmente gli dicesse io non so chi tu sia non mi ricordo assolutamente nulla dice addirittura poi mi sembra quasi che eri partecipe quando facevo gli esperimenti degli Ortinanos quasi ancora infilare il dito nella piaga dire veramente io mi ricordo dei loro esperimenti ma di te non so assolutamente nulla povero Ersirian ha davvero fatto di tutto per Administrator e alla fine ha capito che non ha ottenuto un bel nulla adesso Administrator prende questi gioielli queste gemme e cerca di creare una spada quindi accumula tutto il potere degli Ortinanos per creare un oggetto davvero potentissimo e magari con quell'oggetto può affrontare poi Chirito e tutta la truppa però per farlo deve appunto evocare quasi un oggetto creare un nuovo comando quasi come era il Release Recollection e trasformare poi queste gemme in una spada tutto questo però ovviamente non non funziona c'è qualcosa che non quadra è lei che cerca quasi di trasformare queste gemme ma non ci riesce però Ersirian che è ancora più scioccato per ciò che ha sentito da Administrator dice non è possibile che tu ti ricordi ancora degli Ortinanos e non di me a questo punto fa l'ultimo gesto raccoglie quindi le gemme degli Ortinanos e decide di diventarne parte e si fonde letteralmente con le gemme quindi arriva prende tutte queste gemme in questo ammasso rosso che si sono formate e se lo mangia quasi come una sorta di nuova fusione incorpora le gemme nel suo corpo e diventa qualcosa di diverso i suoi antenati che sono andati a finire tutti da Ersirian mamma mia poverini però hanno dovuto patire chissà quante sofferenze sti poveri antenati di Medina davvero è successo di tutto e poi essere parte di esperimenti su umani come potete vedere non va mai a buon fine finisce tutto in maniera strana comunque fra tutte le cose in cui si poteva trasformare Ersirian perché vedete qui che un po' ha questo potere sacro che esce fuori da lui e lo trasforma proprio gli fa cambiare aspetto beh immaginate un po' diventa un bel mostro cattivo grosso e anche brutto un po' mi ricorda anche le fasi finali di Fragment in cui c'era poi Strea che andava fuori controllo e diventava questa sorta di mostro Strea versione gigante questa bestiaccia quindi alta e grossa va annientata è questo Ersirian con il corpo degli antenati con queste gemme degli antenati degli Ortinos dentro di lui di fatto hanno ancora una motivazione in più per ucciderlo perché ora devono anche andare a riprendersi quelli che sono i loro antenati anche se sono in formato di gemme comunque lui dice io non mi interessa voglio essere usato anche da te administrator però voglio che ti ricordi di me voglio che ti ricordi il mio nome anche se devo diventare un Ortinanos anche se devo macchiarmi di questa colpa diventare quindi una stirpe che non mi appartiene una stirpe che lui considerava anche maledetta dice io farò di tutto però per essere ricordato da mia madre e vabbè dobbiamo quindi farlo fuori per bene perché il pazzo è andato anche oltre è andato un po' oltre i suoi limiti e dobbiamo quindi salvare anche gli antenati di Medina Medina dai fatti forza forse davvero puoi finire questo scontro in bellezza datti da fare poi come vedete anche qui dal filmato arriva Chirito a salvare Medina a dirle dai fatti forza dobbiamo affrontare questo maledetto e dobbiamo salvare i tuoi antenati non puoi rimanertene lì per terra senza fare nulla anche perché nelle clip fanno sempre vedere che combatti ora ti devi mettere in piedi e devi combattere anche questa volta eh direi anche poverina comunque Medina è anche un po' scioccata non sa cosa fare non sa se si riesce a riprendere da tutto questo shock anche perché tutto in una volta come vi ho visto la storia di Ersirian è spuntata tutta ad un tratto non è che uno dice la scoperta piano piano in vari episodi no tutto ad un tratto abbiamo scoperto chi era che fino hanno fatto Yortinanos e ovviamente non è affatto una bella storia comunque impugna la sua katana e dice io libererò la mia casata dalle tue grinfie non accetto che questa cosa vada a finire così tu dovrai morire per bene e quindi dai finalmente Medina forse può avere lo scontro che desiderava quello finale con Ersirian una versione un po' diversa di Ersirian però pur sempre lui anche per vendicarsi tutto quello che gli ha fatto dell'inganno degli avventurieri era anche ora direi e poi il ministrator da lì da lontano che continua a gustarsi lo show e dice vediamo un po' come va a finire questo scontro in generale mi posso assicurare che è stato abbastanza tranquillo niente di impressionante anche perché come attacchi non fa niente di difficile ma quasi non dovevo neanche schivare io letteralmente sono stato sotto a combattere a picchiarlo e non mi sono fatto tanti problemi ogni volta poi ad arti finali cadute starbust stream quindi gli abbiamo tirato veramente di tutto questo Ersirian modificato e in generale come vi ho detto è anche abbastanza grosso quindi non è che dici fa il passo laterale i colpi mancano sembra quasi un po' come il drago valentor quello di fine quarto episodio quindi che bello grosso lì potente non si muove state lì e lo continuate a colpire finché non va giù tanti saluti quindi anche ad Ersirian in sé lo scontro non dura tanto come state vedendo anche se vi ho lasciato sempre un pezzo di tutto lo scontro per evitare che poi il video finisse gigantesco quindi Ersirian tanti saluti è anche un po' particolare perché vedete che ha le zampe ai lati e poi ha tutta questa specie di faccia varie facce che ha davanti che un po' quasi ricorda anche i membri del senato se vi ricordate dell'anime che erano queste facce vuote di persone che scandagliavano il mondo per vedere se qualcuno violava quasi il loro tabù lo trovavano istantaneamente davvero delle bestie questi senatori anche se erano dei fantocci e adesso dobbiamo far fuori il loro rappresentante una volta per tutte ovviamente la più importante che deve quindi dare il colpo finale a Ersirian è Medina che una volta per tutte deve concludere questo ciclo di sofferenza degli antenati liberarli da Ersirian e riscattare forse la sua casata ma non tanto dal parere di altre persone che la consideravano difettosa quanto dal fatto che appunto sono stati fatti prigionieri e hanno sofferto per secoli ed è bellissimo qui che dà il colpo di grazia ad Ersirian con questa mossa della katana infuocata così colpisce e letteralmente trancia Ersirian per bene e diciamo che non è stato il tuo un grande piano quello di unirti agli antenati di Ortinus eccetera anzi forse poteva quasi riscattarsi riuscire ad avere un nuovo ricordo di Administrator e farsi ricordare da Administrator in maniera diversa piuttosto che sforzarsi nel far sì che lei si ricordava di lui del tempo passato anche perché come abbiamo visto Administrator in sé aveva i ricordi al massimo al limite possibile della capacità umana e anche per questo ha iniziato a perdere pezzi della memoria tutti sono a fianco a Medina e le dicono che ha fatto ovviamente un bel lavoro almeno per questo dai è andata bene Medina uno scontro che ha vinto lei veramente anche se più o meno però è stata bella la scena finale con la katana infuocata vedete qui che è di nuovo a terra un po' esausta e Chiri dice non ti preoccupare li abbiamo salvati i tuoi antenati li abbiamo liberati da Ersirian una volta per tutte e qui c'è Ersirian che ancora sofferente insomma mentre sta morendo ricorda il passato ricorda le sue vicende con gli Ortinanos e quella che per lui è stata la più importante ovvero la quinta capofamiglia che era appunto questa donna che era molto molto simile a Medina e che ha voluto quindi contaminare abusare di lei per rovinare tutta la stirpe degli Ortinanos lui si ricorda comunque questo dramma di Administrator che non si ricordava di lui e dice basta io devo intervenire devo fare qualcosa per essere ricordato da mia madre e poi anche abbastanza triste vedere come la ragazza si approcciava a lui con modi molto gentili anche se lui era il capo dei prigionieri lei non aveva timore parlava con lui anzi era preoccupata per lui e invece lui poi ha deciso di tradirla e di abusare di lei per questo video è tutto abbiamo visto il passato di Ersirian tante cose scioccanti e anche Medina che forse è riuscita a liberare i suoi antenati da secoli di sofferenza da un lungo calvario e adesso ci avviamo poi verso l'ultimo episodio il numero 32 che sarà appunto la conclusione della storia la battaglia finale con Administrator Ersirian tanti saluti ora dobbiamo affrontare la tua grande matrigna cattiva ci vediamo nel prossimo episodio e da Dark Knight è tutto ciao a tutti